Parliamo subito di un appuntamento molto importante del fine settimana a Cogoletto e possiamo vederlo anche con il supporto di belle immagini rievocazione del campeggio della gioventù nell'ambito delle iniziative del settantesimo della liberazione Parlando di campeggio apparentemente sembra di parlare di qualcosa che poco abbia a che vedere con l'associazionismo sportivo invece proprio da quell'esperienza che risale al 1947 e che ha visto all'opera ragazzi reduci dalla lotta di liberazione di due anni prima ha avuto poi origine l'anno successivo, la nostra associazione, alcuni di quei ragazzi sono stati tra i padri fondatori dell'ISP nel percorso fondativo del 1948 Nelle foto che stanno scorrendo vediamo appunto la zona dei piani della Madonnina a Cogoletto sulle alture immediatamente sopra il rettilineo che porta in paese e questi ragazzi, parecchi ragazzi genovesi e cogolettesi di Arenzano hanno realizzato una delle prime esperienze di campeggio internazionale che ha visto poi fino almeno alla metà degli anni 50 presenza di delegazioni di gruppi di ragazzi provenienti da buona parte dell'Europa grandi iniziative, personaggi ragazzi dell'epoca che poi sono diventati personaggi famosi in ambito culturale penso a Gianni Rodari o in ambito politico sono passati da lì e poi appunto come dicevamo l'anno successivo da quella felice esperienza ha preso il via l'esperienza invece più prettamente sportiva della nostra associazione All'appuntamento che è un appuntamento di carattere nazionale ci sarà tra l'altro il presidente nazionale dell'ISP che è Vincenzo Manco ci sarà Soledad Diodati che è sorella del partigiano Arrigo Diodati e possiamo anche vedere qualche immagine di un incontro con Soledad Diodati e possiamo anche entrare nel dettaglio poi della manifestazione che inizia sabato mattina visita i piani a Madonnette, insomma è un weekend ricco Sabato mattina alle 10 ritrovo a Cappieso che è una località immediatamente vicina alla zona dove ebbe sede il campeggio di Cogoletto e visita quella zona, prati, boschi che ancora oggi sono teatro di esperienze di campeggio, di scout, di altre organizzazioni e di iniziative sportive come diverse edizioni di prove di corsa campestre anche a cura di WISP e di FIDAL ovviamente Si prosegue poi nel primo pomeriggio, ci sarà la rievocazione grazie a riprese filmate, foto d'epoca alcune le abbiamo già viste prima, presso il salone del palazzetto di Cogoletto e si concluderà poi tutto quanto con una premiazione intergenerazionale come ci piace chiamarlo una sorta di staffetta di passaggio di consegne tra i ragazzi del 47 presenti in buon numero nonostante l'età avanzata e i ragazzi di oggi che ne parleremo dopo saranno presenti sulla pista di atletica di Cogoletto per una prova interessante appunto di atletica leggera Parleremo poi, vedremo anche delle immagini di atletica giovanile che è sempre uno dei vostri fiori di occhiello Abbiamo detto come inizia la giornata, vediamo poi come si conclude perché c'è un appuntamento importante, l'atletica è leggera ed è un appuntamento con i giovani che si avvicinano all'atletica sul campo Marco Pala di Cogoletto Sì, il campo Marco Pala di Cogoletto che è uno dei punti fermi del movimento dell'atletica Ligure è teatro della prova di apertura del circuito all'atletica leggera 2015-2016 in quel caso si tratta di prova a staffetta e vedremo i nostri bambini e ragazzini schierati a squadre di 10 comprendenti le diverse categorie di età che prendono parte all'attività sportiva vediamo qui le edizioni dello scorso anno, queste sono le fasi di riscaldamento ma proprio per sottolineare la giovane età di alcuni dei partecipanti prevale ovviamente lo spirito ludico, il divertimento, il gioco però si mettono le basi per proseguire poi negli anni con forme di impegno più serie più nel senso dal punto di vista agonistico, ovviamente non che queste non lo siano anzi, la prova di sabato si concluderà attorno alle 16.30 e con le premiazioni come dicevo prima per l'appunto quando si parlava dell'iniziativa rievocatrice dei fatti del 47 i bambini verranno premiati dai ragazzi del 47 e viceversa loro premieranno tra virgolette i nonni forse anche bisnonni in qualche caso data l'età e quindi ci sarà un simpatico passaggio di consegne tra l'entusiasmo dei vecchi wispini e l'entusiasmo che possiamo vedere esiste tuttora tra i giovani e le loro famiglie che sono in questo caso numericamente molto presenti in gradinata e questa bella commissione ci piace, il simbolo dell'atletica leggera è l'omino verde stilizzato che sorride e corre è il nuovo simbolo, lo inaugurerete ed è il simbolo sorridente per un'attività di tipo ludico inizialmente che può poi diventare invece attività sportiva vera e propria certo, assolutamente